Nel cuore dell'Eight Mile di Detroit si trova il più grande testo TESTO Pegni della città Non sai mai a mia son Ah Non sai mai che so Sù le mani Crederete? Oh mio Dio Ai boschi Poi il Io Dio Poteva morire Sass Sass Come va? Non lo so Lo saprò ora Ok Oggi vuole pagare quanto ci deve? Non lo so Questa donna è venuta a riprendere i suoi c***i I termini sono scaduti e deve pagarci gli interessi per riavere la sua m***a Cosa vuole fare? Non lo so Ha un cazzo. Può mettersi in file e pagare quello che ci deve. Può mettersi in file e pagare quello che ci deve. Può rimanere qui così le spiego come li abbiamo spiegati. Da dove escono? Un carai. Io porto solo una tv, capite cosa intendo? Faccio fare sempre una tv. Stavolta ho il tunnel carpale. Ho pensato, porto 500 tv. Che ne dici di comprare questa bellezza? Puoi averla subito per 450 tv. È un cliente regolare. È un tipo che ha un sos, ma porta merce pochente, perciò ci piace fare affari con lui. Cavolo, il polpo. Vieni qui, vieni qui. Ti ringrazio. Sai, ho una tv. Grazie davvero. Hai portato una tv che ha una tv sullo schermo. Ma di che pale? Quella tv che ha... Oh, niente. Crepa. Eh, no. Beh, visto che c'è la crepa, facciamo 300, eh. VATTA! Visto che c'è la crepa, facciamo una mano. Non ti do proprio niente, non la compro. È fuori di testa. La tv è tv. Lo sa che è con lui. Perché non attacchi la spina e lo vedi? Funziona? No, la qualità dell'immagine è perfetta, cavolo. Proviamola. Vediamo. Grazie. Accendila. Forza, controlla. Aspetta un attimo. Aspetta, ora arriva. Crepa. Aspetta, ora arriva. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Boom! Hai risa? Mio figlio potrebbe morire. Accidenti. Ciao